a cadde in versilia la mostra prodotta dalla società di belle arti con il comune di forte de marmi e la fondazione villa bertelli propone al forte leopoldo primo dal 17 giugno al 5 novembre la lettura in punta di pennello di quel magico momento che la versilia visse a cavallo tra 800 e 900 e lo fa focalizzando la sua indagine su tre grandi protagonisti di quel momento magico plinio nomellini lorenzo viani e moses levi plinio nomellini lorenzo viani e moses levi sono stati per noi gli autori più deputati a incarnare il mito della versilia tanto da definire quel periodo una novella arcadia è temporale un'età dell'oro nella quale lì si sono riuniti le personalità più creative del mondo del teatro della letteratura della poesia della musica e della pittura un periodo irripetibile dopo il quale appunto purtroppo ci sarà il secondo conflitto bellico l'intenzione di questa mostra è stata quella di ripercorrere un viaggio a ritroso nel tempo un viaggio visuale per permettere anche alle nuove generazioni di conoscere un passato al quale appartengono e del quale è necessario essere consapevoli l'esposizione che occupa tutti e tre i piani del fortino propone una raffinata selezione dei loro capolavori alcuni non più visti da tempo provenienti da collezioni private ad eccezione dello straordinario festa al villaggio di nomellini concesso dalla pinnacoteca il divisionismo della fondazione cassa di risparmio di tortona grazie a tutti